imparare è una piccola magia, è una magia per i vostri alunni e per le vostre alunne, una magia che si rinnova tutti gli anni e per i bimbi di prima, è una magia ancora più sorprendente, allora facciamogliela vivere per intero questa magia, per questo motivo abbiamo pensato di preparare per loro dei cartonati che ritagliano, costruiscono e possono manipolare per imparare meglio, si tratta della pozione parolina, la pozione parolina che serve loro per capire come si fondono le consonanti con le vocali combinandole insieme, la pozione numerina che permette loro di imparare a contare anche oltre i 10, la pozione regolina è la pozione che consente loro di mettere a fuoco le idee e i concetti principali, infine quando sono un pochettino più grandicelli c'è la pozione sapientina, la pozione che permette loro di capire come si studia, come si impara a studiare e quindi quali sono gli ingredienti per mettere a fuoco i contenuti e riuscire a fissarli e a memorizzarli in modo corretto e ordinato. Questi sono strumenti che consentiranno ai vostri alunni e alle vostre alunne di imparare in modo efficace e duraturo.